La Tuchama gli dice che c'è uno che lo farsi dà alle persone, questo qua io adesso, c'è anche la bottiglia in casca, l'hai visto segarsi, proprio di lui così, l'ho visto che si non scompava e poi lo farsi dà alla gente. Cos'è che hanno fatto la Tuchama? Cos'è ha detto? Cos'è hanno detto loro? Allora, io non ti ho capito, non ti ho capito, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, ma ti stavi segando prima. E' una cosa che lo farsi, è passare dell'ombra, l'ombra è meglio, allora diciamo, devo mettere un milione, un milione, un milione, un milione, un milione, un milione, sei calmo e non agitarti eh? Milioni centisi! Milioni centisi! Milioni! Milioni! Non mi rende io! E' buono di me! Ma questo è fuori come una campana! Tu già! Stai a capitare! Tutta! Tutta l'u! Tutta l'u! Tutta la capitare! L'importante è che sei tranquillo! Sì! Si è tranquillo! Tutta l'u! Tutta l'u! No! No! L'importante è che sei tranquillo! No! Sì! 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 Ciao! Vero! Ciao! Ciao! Sì! 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 Grazie a tutti Grazie per fermarli in macchina Noi siamo passati di qua perché lei ci ha segnalato che questo era lì che si masturbava Non so che cacchio faccia leva Se potrete andare evitiamo di fare spettacoli